amici sportivi bentornati no non commento lascio a voi i commenti signori Gianni Morandi in arena 8 proprio lo scandalo cosa c'è da dire? niente cosa c'è da dire? a scendere le gilese le new balance oh 24 no aspetta che cazzo funziona? 8 24 24 28 mi hai messo in inglese non si capisce niente vabbò amici andiamo a spacchettare i barilli come vedete arena 8 le ceste c'ho anche la crown le ceste andiamo a spacchettare le ceste sperando in qualche carta di arena 8 ma che ci pensi a fare? gold great ok ci siamo bruciati già le ceste di arena 8 gold fearball e bomber ma fearball gold knight e zap che cazzo di sfiga gold skeletons arrow cannon e valkyrie ma perché mi si vede male sto pisciatore dico oh e vediti bene archer barbarian inferno tower e goblins amici la ceste andiamo a spacchettare la ceste più importante se non ci esce niente chiudo il canale james knight cannon tre musketer no amici non ci posso credere vaffanculo a sto gioco di merda ma come cazzo è possibile ma porca troia mi sono fatto un culo non è una capanna per arrivare in arena 8 e non mi esce manco una carta mamma mia pure questo mandava bene ma va ma è bene è una porcheria amici passiamo al mio principale sotto le note dei red dot e dai carica tio è 4 volte che mi fa sto canale beh amici eccoci abbiamo sbloccato il barile della cron che vediamo un po' se posso ah vabbè ho richiesto questi questo è potente amici apriamo i barili ah 2 carte 3 moschettieri tesla c'è come faccio le carte al 10 e torre bombarola e cavallino dai andiamo dacci 3 carte stregone e fecce dai oro mini pecca e fecce un'altra volta andiamo a spacchettare quello di oro oro ecco qua quello di oro scarica barbara gigante gigante come vedete sono sceso di tantissimo non so se prima avevo fatto il video non mi ricordo quando l'ho fatto stavo a 2008 quasi 2009 ci consoliamo con la veleno ci consoliamo così non so potrei potenziare questi vediamo cosa posso potenziare ehi che stai a fare sto pisciatore in mezzo alle palle vediamo che posso potenziare ma quasi quasi mi potenzio questa anche se non lo uso per niente ah la caserma o questo se no fammi vedere l'ho già visto ieri o prima non mi ricordo non mi ricordo potenziamo questo ma fai barbara al 9 spettacolo quant'è 1200 sale a 1200 quindi questo me lo elim 1120 più 112 1120 più 112 eh va boia però non potete far cocire supercell porca merda ma va bene amici potenzio questa livello 7 non lo so se lo usa qualche mazzo la capannella fatemi vedere no non lo usa nessun mazzo iscrivetevi commentate condividete se non siete mi sono riscritti lasciate like se noi ci vediamo domani